ragazzi ve lo dissi dopo real madrid paris san germain io sta cosa l'avevo già pensata quando è uscito real madrid paris san germain tutti tutti avete detto a reale esce stavolta real non esce agli ottavi non esce col paris san germain io dissi che real avrebbe vinto la champions e l'ha rivinta ancora tra l'altro sulla maglietta io ce l'ho di marsello convinto che segnasse marsello oggi e invece non ha segnato maglietta che ho comprato dove secondo voi maglie calcio basso posto trovate il link ovviamente in descrizione guardate che belle che sono tutte le patch tutte le cose che godure questo è il campione del mondo e niente ragazzi è una cosa che si sapeva meglio si poteva immaginare quello che non si poteva immaginare mannaggia devo fare la telecamera scarica ormai la batteria che sta andando un attimo solo che carico eccoci qua dai su po e niente dicevo liverpool fatto un po come la juve l'anno scorso a cardiff cioè ha fatto subito grande pressione grande corsa ea differenza di questa partita rispetto a cardiff che qual era non ha segnato al primo tiro ci ha messo un po segnale ecco primo tempo è finito 0 a 0 a cardiff il primo tempo finì 1 a 0 1 a 1 però alla fine oggettivamente due partite molto simili liverpool non aveva la squadra del real madrid la differenza è che la juve l'anno scorso cedette solamente perché si stancò troppo perché i giocatori arrivarono un po cotti qui il liverpool cede anche perché tecnicamente erano tanto troppo inferiori a questo reale c'è poco da dire ragazzi quando vedete una squadra allora dovete calcolare da quando c'è la coppa dei campioni la coppa dei campioni parlando di coppa dei campioni il record di coppa e campioni consecutive appartiene al real madrid che ne ha vinte 5 e consecutive dalla nascita fino appunto ai cinque anni successivi da quando è diventata c'è dal 92 nessuna squadra l'aveva mai vinta due volte questo reale è alla terza ma cose cioè quando dico che questa è la squadra più forte non dico della storia del calcio ma degli ultimi vent'anni gli ultimi venti trent'anni è così ragazzi poi è vero mi ha fatto incazzare come una besta che mi ha tirato fuori come uscita la juve tutto quello che volete però questa è una squadra fenomenale fenomenale e anche culo perché parliamoci chiaro si chiama culo non è fortuna è culo perché se la si fa male perché ramos ha voluto infierire parliamoci chiaro ramos ha cercato di fargli male e gli ha fatto male però al di là di questo cioè poi vardi carius ragazzi ma carius cioè il titolo un po ironico ma carius ragazzi ma dai ma l'hanno tirato fuori cioè ma l'hanno trovato con tre confezioni di pringles è andato il portiere il liverpool dai ragazzi non si può cioè il primo gol io credo che sia una roba ma poi protestava per che cosa cioè la mia domanda è da fagli io fossi stato un difensore ma tu che cazzarola protesti cioè gli ha tirato praticamente gli ha regalato il vantaggio al real hai la fortuna tra l'altro puoi trovare il pareggio su una cappella di navas perché anche navas lì non puoi entrare così a tuffarti a casa ma devi andare verso il pallone non verso l'angolo sapendo che c'è un attaccante davanti hai però comunque la fortuna di trovare il pareggio una partita che sembrava già destinata al real madrid poi diciamo che sidana ha avuto quello che gli altri non hanno cioè bale in panchina perché bale è un fuoriclasse assoluto e gli ha risolto la partita prima si è inventato una rovesciata ancora più difficile forse di quella di cristiano ronardo torino una rovesciata pazzesca pazzesca e poi su un tiro che onestamente era centrale e neanche così forte carius fa una cappella enorme una seconda cappella che costa poi definitivamente lì la coppa perché poi la partita è finita cioè diciamoci la verità il liverpool poi è crollato rischia di prendere anche il quarto cioè l'anno scorso il real madrid ha vinto 4 a 1 con la juve quest'anno se non fa l'invasione probabilmente vince 4 a 1 con liverpool perché l'invasione di campo proprio l'ultima azione con un 3 contro 1 cioè poteva essere il 4 a 1 e finiva lì buona quindi finita finita 3 a 1 ma onestamente è una partita che non non ha storia dai una storia liverpool finché ha avuto gamba ha provato a tenere ma questo real è tutta un'altra cosa sembra sempre che sia un real a fine corsa e poi ha sempre le giocate cioè ronaldo ha fatto una finale pessima a differenza dell'anno scorso e però te l'ha fatto nata fatto una grande finale benzemà isco oggi non mi è piaciuto per niente chiaro non è che discuto il giocatore discuto la prestazione però è entrato bail e gli ha risolto la partita cioè ragazzi alla fine quando è una squadra così forte prima o poi il giocatore tra risolva la trovi la trovi la trovi c'è niente da fare troppo forte storia troppo e niente ragazzi il real che vince la sua tredicesima coppa dei campioni che a questo caso qua lo cambiano praticamente ogni anno sembrava in noi con gli scudetti e niente tra l'altro terza di fila è un'impresa che dubito che in Champions League rifarà qualche altra squadra perché veramente tre Champions di fila è imbarazzante il dominio è imbarazzante poi ripeto mi ha fatto incazzare come ci hanno battuto a Madrid come ci hanno superato a Madrid però alla fine indubbiamente questa è una squadra che sta facendo la storia del calcio punto il real è nella leggenda io vi saluto e vi do appuntamento nei prossimi video ciao ah dimenticavo prima di chiudere quando dite che Klopp è meglio di Allegri ricordatevi che Klopp 8 finali perse su 11 capito?